Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come nascondere un membro nel canale Telegram. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come nascondere un membro nel canale Telegram. Ora nascondiamo il membro nel canale Telegram e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione Telegram, quindi aprila semplicemente. Una volta aperta l'applicazione Telegram, come puoi vedere, ti indirizza qui. Allora ora qui quello che farai è semplicemente aprire il tuo canale Telegram semplicemente toccandolo. E qui puoi semplicemente toccare il profilo in alto come puoi vederlo. Quindi ti indirizza qui e quello che farai qui è semplicemente toccare l'icona della matita in alto a destra. Ora qui ragazzi, toccate semplicemente l'amministratore come potete vederlo. Ora qui ragazzi, dato che non c'è alcuna opzione per nascondere un membro nel canale di Telegram, ma vi mostro semplicemente l'altro modo e quello che farete qui è toccare aggiungi amministratore. Quindi devi toccare cerca qui e quindi cercare il membro header proprio in questo modo. Quindi qui tocca controlla per aggiungere il membro header come uno degli amministratori di questo canale. Ora abbiamo finito di aggiungere il dispositivo di spegnimento dei membri, quindi ora andremo ai membri, torniamo indietro. Come potete vedere qui ragazzi, dice che solo l'amministratore del canale può vedere questo elenco e questo è tutto, ragazzi, su come nascondere i membri nel canale di Telegram. Grazie per aver guardato.